Fra le presenze italiane ad Automation Fair 2016, l'evento organizzato da Rockwell Automation ad Atlanta, abbiamo incontrato l'azienda genovese Face Motion Control. Cosa presentava ce lo racconta Claudio Cavallante. Siamo Face Motion Control, siamo a Genova, a Genova siamo 90 persone e siamo progettisti e produttori di motori a magneti permanenti. I nostri motori a magneti permanenti nascono su esigenze specifiche del cliente, quindi vengono integrati all'interno della macchina del cliente e vengono disegnati e progettati su specifica richiesta del cliente stesso. C'è un forte impegno nostro nel ricercare sempre nuove soluzioni, sempre soluzioni più dinamiche, sempre soluzioni ad alto rendimento, ad alta potenza, ad alta densità di coppia. Da poco abbiamo firmato il programma Encopass con Rockwell perché vogliamo investire in questo mercato, nel mercato americano. Crediamo molto in questa soluzione, il cosiddetto motore coppia ad alto rendimento, Rockwell ha creduto in noi, abbiamo firmato da poco e crediamo con questa collaborazione e con questa partnership di poter approcciarci al mercato americano tramite la nostra soluzione tecnica.